La macchina elettorale è una macchina complessa, basti pensare che interessa un corpo elettorale a Napoli di circa 750.000 persone e sono coinvolti 200 edifici, circa 885 seggi, quindi bisogna mettere in campo tutta una serie di misure organizzative già complesse. Per quanto riguarda le misure di prevenzione per il Covid, vi è il protocollo di sicurezza stipulato tra Ministero dell'Interno e Ministero della Salute che sarà messo in campo e che prevede chiaramente tutte quelle misure di contingentamento, di utilizzo di dispositivi di protezione individuale sia per i componenti di seggio che per gli elettori, la messa a disposizione di gel idroalcolico per la disinfezione delle mani prima e dopo il voto ed altri accorgimenti che dovranno consentire, potranno consentire l'espressione del voto in tutta sicurezza. È chiaro che tutte queste misure sono estese anche al personale coinvolto comunale. Ricordo che vi sono delle novità per quanto riguarda l'espressione del voto. La legge ha stabilito in questa occasione che l'elettore ponga direttamente nell'urna la scheda e quindi non vi è passaggio di scheda tra l'elettore e il presidente e che poi per esempio i componenti di seggio al momento dello spoglio utilizzino i guanti. Quindi vi sono tutte queste misure che bisogna garantire e per garantire in particolare il distanziamento, il contingentamento, abbiamo gran parte del personale comunale impegnato.